benvenuti felicini stasera siamo qui per fare un unboxing allora dovete sapere che mio marito ha ordinato uno scatolone strapieno i dolcetti americani che adesso vi faccio vedere da dove provengono camera ecco qui si chiama itinerando e www.itinerando.net e qui ci sono un sacco di cose americane che adesso ci faranno vedere miriam e sarah ok dai vai prendi il primo pacco così vediamo di che cosa parliamo queste sono patatine o meglio queste sono sì cipolle visto flower rings ok e sì sono di cipolla queste sono patatine di cipolla poi andiamo avanti veloci via ecco qua ancora ancora di cipolla sì sì poi andiamo avanti vediamo che cosa c'è c'è tutte cose americane le pringles però guardate un po saranno tipo al barbecue visto che c'è il barbecue noi non ce l'abbiamo così la confezione viola è diversa dalla nostra dovete sapere vicini che noi siamo celiache e per noi le patatine con al barbecue ci sono quelle lì tipo pringles e sì anche tra queste cose tra questi prodotti abbiamo trovato anche qualcosa senza glutine ecco qui qui abbiamo anche qui ecco questi mi sa che sono miriam quelle senza glutine platani queste sono di banana miriam di chips quindi patatine di banana ovviamente non si capisce niente vai e questi sono tipo i cioccolatini bonbon con dentro con dentro cioccolato al latte e dentro cioccolato quello al latte bianco ecco qua le patatine patatine norma no mi sa che sono al al pollo ok speziate al pollo sì buonissime poi facciamo vediamo ancora pringles alla pizza pringles alla pizza vabbè anche noi però ce le abbiamo ecco ce le abbiamo ma anche quelle al barbecue però diciamo che cambiano le scatole non sono uguali a quelle che abbiamo noi vai tanto qui non c'entreranno tutti queste sono senza glutine ecco qua ci sono queste c'è i weekendi ok e sono senza glutine vedete dove vedete questa questo segnetto vuol dire che sono senza glutine guardate un po' guardate un po' c'è la bibita al twix questa va assolutamente provata perché altrimenti io muoio dovete sapere che io muoio per i twix e poi ci sono le creme le creme lo sai che sono anche buone alla quindi al burro di arachidi poi dopodiché la crema al twix e anche quella al bounty buonissime sicuramente sì questa poi ecco qua ci sono anche queste ormai ci sono anche da noi queste Miriam poi questo qua baffalo hai capito queste qua sono i cornetti Miriam come ce l'abbiamo noi di mais però al pollo lo vedi e anche piccanti mi sa perché ci sono i peperolcini non li mangerò diamo avanti ho trovato queste che sono quelle senza glutine ecco qua qua abbiamo le caramelle delle caramelle tipo gommose saranno credo di sì non fa niente non fa niente perché altrimenti non c'entrano tutte poi vediamo Sara cosa ci ha dato queste patatine con il con gli scampi addio con i gamberi sì sì vedremo come sono queste mangi tutte ok ragazzi ho preso due cose senza volerle guardate che ho trovato questo è al cocco vediamo un po' e questa bibita al mars wow la bibita anche al mars queste sono assolutamente da provare questi che sono non lo so ma ne ho trovato pure biscotti 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 al cocco e l'alto è verde e questi invece sono tè al tè verde sì che cosa strana ok poi ci sono queste che sono a queste sono al formaggio Miriam vabbè come quelle che abbiamo in Italia sì sì al formaggio però no queste sono ah scusami alla pizza non avevo visto non avevo visto deep dish pizza sì alla pizza però col formaggio vedi alla pizza al formaggio piccanti ma non è che sono come quelle cose che avevamo noi che alla pizza non lo so non lo so tesoro con la pizza al formaggio piccanti ah queste sono quelle pizza che ci mangiavamo io queste qua impazzivo per queste che le metti in bocca che sono tutte scroccherelle e panocchine scroccherelline sì io le volevo dare tutte qui ci sono questo non so se ve lo ricordate io lo ricordo che praticamente è un rotolo di con eh praticamente di chewing gum quindi si srotola e si mangia sì sì e vuoi muo muo sì tesoro io muoio sì non potete capire che ho trovato wow i biscotti alle memens buonissimo double chocolate mmmm poi Sara vediamo qui cosa c'è i pesciolini i pesciolini guardate qui ci possono capire quali sono i biscotti forse con le frasi tipo tipo quelli cinesi che hanno che hanno dentro tipo le frasette ma chi lo sa sono salati vedremo poi andiamo avanti guardate qua quanta roba non potete capire che ho trovato avanti questo è lo zucchero filato praticamente che loro possono mangiare perché comunque senza glutine guardate un po' qui dentro ci sono due zuccheri filati un azzurro e uno rosa andiamo avanti Sara ecco qua hot fries quindi queste saranno con le patatine miriam piccanti eh sì corre patato snacks ho trovato questi che sono alla fragola quelle là che mangiamo sarebbero praticamente i come si chiamano mannaggia non mi viene in mente poi mi verrà e sono alla fragola ah tipo i micado ecco i micado però questi sono alla fragola e questi invece sono ah il biscotto all'oreo tipo oreo miriam e queste invece sono alla banana e e questa è la banana è cioccolato e banana ma pensa tu guarda un po' io 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 che cose strane io ho detto vai fammi vedere Sara guarda vediamo 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 questa è un'altra eh cosa che è dolcecchi di riso glutinoso mochi chissà giapponese perché c'è scritto taste of japan sì eh sì sarà giapponese e io non li conosco perché non ok qui vediamo qui i twix sono praticamente i biscotti al twix buonissimi io amo i twix andiamo avanti le patatine all'uovo miriam questo non so io non sono proprio un'amante diciamo dell'uovo già vederlo così mi fa un po' impressionante poi si amore è tutto zebra holy kitty cat guarda dark white quindi col cioccolato nero e bianco miriam e questo non lo so dobbiamo leggere e questo non fa niente questo però è lo sneakers con il riso miriam il riso soffiato dentro poi e le memens pure con il riso soffiato vedete queste sono senza glutine quindi voi le potete mangiare questi li avevamo già presi e sono i twix con il caramello poi che c'è qua non lo so questi secondo me sono chewing gum sicuramente si possono vedere pure da qui si sono chewing gum queste non potete capire quanta roba ancora ci rimane da togliere ah sono ok vedi si si dai al kiwi al kiwi si al kiwi e alla fragola miriam vai poi lion vai sarà wow il lion al cocco mamma mia io impazzisco per queste cose due ce ne sono al cocco poi ho trovato questi sempre uguali a quelli che abbiamo visto ancora mochi si in gusti diversi che poi questo non so com'è mochi non lo so giapponese e questo tè verde cioè vado l'ora di assaggiare queste cose per capire il gusto sono sicura che non tanto vai wow queste sono sempre quelle caramelle frizzanti all'uva queste devono essere buonissime fammi vedere Sara tu cosa mi dai Kit Kat con il cioccolato bianco ragazzi guardate questi sembrano gli arancini che ti danno al ristorante i mochi dolcetti di riso glutinoso ai fagioli rossi alle arachidi al sesamo oddio queste ho paura di provarli poi vediamo Sara ancora ma quante cose ci stanno ancora guardate qui le M&M's con vabbè le noccioline e il cioccolato bianco sono curiosa di saperlo perché io sono l'amante delle M&M's altre chewing gum o caramelle forse erano Miriam ok la ciliegia buone vedete sottili quelle che mangiavo vediamo dei rotolini al cioccolato cheddar cheese e c'è il formaggio di cheddar il cheddar Miriam il formaggio il cheddar quello che piace a voi ok sono un po' pasticcioni gli americani poi c'è il lion sempre white buono che non è quello al cocco oddio qua cade tutto poi ci cade tutto e poi c'è il kit kat ok con le noccioline e poi ci sono sono rimasti questi e sono cookie and chocolate ah hai visto è questo con la crema al cioccolato bianco sì sì non vedo l'ora di provarli provi tutto su Sara ok vedete qua quante cose ci stanno su questo tavolo sì tesoro tante cose da mangiare anche papi ti porta la pizza ok allora noi adesso vi salutiamo Sara dice di cliccare sulla campanella di iscrivervi al canale e di mettere mi piace a questo video per essere sempre aggiornati bravissime sul canale impara ciao bimbi ci vediamo al prossimo video adesso vi mangiamo qualcosa ciao felicini ciao